Continua lo sciame sismico nei campi flegrei. I sensori dell'osservatorio vesuviano hanno registrato a Pozzuoli a partire dalle 6 e un quarto di oggi nuovi eventi di bassa magnitudo. L'ultimo registrato è di 0,3 su scala Richter. Lo sciame sismico è cessato alle 6 e 27. Già ieri sera due terremoti di bassa intensità sono stati rilevati dai sismografi dell'osservatorio vesuviano che hanno registrato alle 21.59 e alle 22.02 due scosse di terremoto di magnitudo compreso tra 0,3 e 0,7 gradi della scala Richter con epicentro rispettivamente in mare e in zona solfatara. Tante le segnalazioni specie sui social da parte di cittadini residenti nella zona di via Pisciarelli ad Agnano, nella zona alta di Pozzuoli e nella zona del lungomare della cittadina flegrea. Gli eventi sono stati accompagnati da un boato ma non hanno creato danni a cose e persone ma solo tanta paura e apprezzione.